Buongiorno a tutti, sono Clara, libreria La Pagliosta e questa settimana vorrei presentarvi quattro libri. Il primo è Io posso, di Piff e Marco Lillo, è la storia di due donne, a Palermo. Queste due donne sono due sorelle, sono due sorelle che sono divise tra la mafia e lo Stato. Il secondo è il nuovo libro di Alessandra Carati e poi Saremo Salvi, edito Mondadori, è la storia di una famiglia di migranti. Siamo negli anni 90 quando questa famiglia cerca di scappare dalla guerra di Jugoslavia verso l'Italia. È un romanzo di formazione e un romanzo di integrazione perché racconta comunque la difficoltà di integrarsi in questo nuovo mondo che è Milano per loro che vengono dalla Jugoslavia, quindi la ricerca di comunque di mantenere i legami con la famiglia che è rimasta nel paese di origine. È un bellissimo romanzo, scorrevole, che lo consiglio a tutti, sia ai giovani che ai meno giovani. Il terzo volume è Le indiscrete di Elisabetta Razi, è la storia di cinque fotografe e attraverso queste cinque biografie si racconta con la storia del Novecento del mondo. E per concludere, c'è uscito il seguito dei leoni di Sicilia, l'inverno dei leoni di Stefania Auci, Edito Nord, è la stampa della saga dei Florio e racconta, visto che con i leoni di Sicilia eravamo arrivati all'apice della fortuna dei Florio e qui racconterà l'altecchino. Grazie.